Ben trovati a tutti a un altro appuntamento con Dentro la Notizia. Oggi come ospite abbiamo il consigliere comunale del gruppo misto, Ivan Berzilli. Salve a tutti, buonasera e grazie per l'invito. Grazie a te innanzitutto per aver accettato. Diciamo che ti ho presentato come un consigliere comunale del gruppo misto, ma vogliamo ripercorrere un po' la storia politica di questo mandato? Parti dal Movimento 5 Stelle e poi dopo gruppo misto, Lega, gruppo misto. Ci vuoi spiegare un po' questi passaggi? Sì, a dire il vero nasce, Ivan politicamente inizia a nascere all'età di 13 anni, nel consiglio comunale Baby, all'epoca era il primo sperandio, un'emozione bella. Con il tempo si maturano delle idee, a volte si mettono anche in discussione, l'indigenza di persone sta proprio nel saper mettere in discussione anche le proprie idee, o almeno a rivedere delle idee, dei punti di vista, si fanno delle riflessioni. All'indomani del ballottaggio che ha visto vincere la giunta d'Alberto, ci fu, diciamo io, miei nuclei dal gruppo Movimento 5 Stelle, che ricordo ho contribuito a creare in maniera decisiva, soprattutto per le ultime amministrative. Eravamo veramente un bel gruppo, un gran bel gruppo. Che comunque aveva fatto un bel risultato anche alle elezioni qui a Teramo. Sì, incredibile, diciamo che... Attorno alla figura però... Di Cristiano. Di Cristiano. Di Cristiano, una persona straordinaria, era veramente la migliore soluzione in quel momento, e arrivò proprio a Fagiolo. Tra l'altro Cristiano era uno dei più, diciamo, rappresentativi del primo momento, dei primi meetup. Sì. E il momento era... L'opportunità era importante, era ghiotta per far bene. E avevamo anche la sponda del vento, all'epoca, ricordo, giallo-verde. Insomma, il governo, avevamo anche espresso parecchi deputati, e uno dei quali era vicino anche a noi, in maniera, diciamo, seppur virtuale. Parliamo di Berardini. Sì, esattamente. Diciamo, a cui mi legava in quel momento un rapporto di vera amicizia, perché lui ha studiato insieme a mia moglie, e quindi eravamo molto amici. Quindi io confidavo molto nella sua vicinanza, nella sua fratellanza. In realtà lui è stato un abile politico e calcolatore, e di questo, diciamo, gliene dò atto, perché ha saputo sin da subito qual era il suo obiettivo. E già prima, quando Gian Guido non voleva candidarsi, già prima, all'inizio, tentennava, e solamente Mare Cristina Marroni, poi, insieme a Valdo, riuscì a convincere per farlo candidare, Gian Guido optò di... Andò a Berardini e disse, ma sceglietelo voi il candidato sindaco, no? E lui, miseramente, disse, no, no, noi andiamo da soli. È troppo facile. Ci voleva il coraggio, ci voleva spessore politico per vedere quello che poi sarebbe stato. E io ho avuto sempre le idee chiare, io ho avuto sempre una visione di quello che era l'obiettivo. L'obiettivo era dare risposte ai cittadini che hanno votato la persona. Poi il rapporto con Berardini si è evoluto, è cambiato? Beh sì, lui ha preso le distanze. Il momento in cui ho fatto la scelta, perché ero scevro da, libero da condizionamenti, non mi faceva tirare la giacca, perché poi il movimento in questo periodo, soprattutto nell'ultimo triennio, non ha fatto un'opposizione, ha fatto la stambella, in sindesi, e poteva ottenere di più, se ci fosse stato, spessore politico. I meetup erano, cioè, non c'era uno spessore politico all'interno dei meetup, e quindi i rappresentanti di turno sono anche bloccati, ingessati, no? Anche se manca il coraggio della persona che in quel momento deve prendere una posizione politica anche netta, che può però dare ampie risposte poi a quella parte di elettorato che ti ha votato, ben venga. Invece il movimento non era così, si doveva andare soli perché bisognava essere indipendenti. Io questa cosa non la condividevo, perché per il bene di un paese o di una città si devono fare accorti, è buona cosa, la politica insegna che sì, è l'arte della mediazione, il compromesso, però finalizzato all'obiettivo. Quindi io mi staccai, anche con l'appoggio di tantissimi amici del gruppo, tant'è che il gruppo oggi non esiste più, sono altre persone che stanno attorno all'attuale consigliera del movimento, però il gruppo da 70 che io avevo contribuito a costruire non esiste più, o meglio, le persone di mia fiducia che io avevo candidato, levandomi anche voti, perché quando sei in un gruppo devi fare anche la scelta di coraggio di candidare persone o quantomeno di sottoporre alle persone di tua fiducia la volontà se si vogliono candidare. Io l'ho sempre condiviso con tutti, quindi molti dei miei amici sono candidati, a me ha fatto un enorme piacere e questo poi, se dai seguito, io ho avuto il coraggio di andare avanti nelle scelte, non stare ingestato nei movimenti politici come è stato poi nella Lega, quella è stata un'operazione di tutta opportunità politica e lì si è accesa in me la scindilla che si poteva realizzare qualcosa, tant'è avevo raggiunto un accordo. A proposito proprio della Lega, dopo aver, tra virgolette, rotto con il Movimento 5 Stelle, essere entrato nel gruppo misto, si è presentata questa opportunità, che però non ha avuto poi vita lunga, è durata un annetto circa. Sì, esatto, io ho temporeggiato, perché a volte considerazioni di massima non portano beneficio, quindi ho temporeggiato, ho aspettato le risposte che dovevano arrivare, non mie personalistiche, come molto spesso accade, il consigliere entra nel partito importante, trainato dalla volontà magari di essere assecondate delle sue volontà, come un posto di lavoro, un incarico professionale. Nel mio caso non è stato così, anzi tutt'altro, io ho fatto un accordo da folli, proprio, e mi avranno detto questo è ingenuo, in realtà io ho visto oltre, perché l'opportunità di prendere un partito al governo influente in quel periodo, era da visionarli, nel senso che nel momento in cui avevamo un coordinamento vicino a noi, batti l'accordo prevedeva che avessimo noi, io e sbraccia rientrava, io entravo e sbraccia rientrava, se avessimo avuto un coordinamento locale, cittadino, vicino a noi. E questa sarebbe stata la garanzia per poter poi fare le scelte politiche al meglio, e in sicurezza, perché oltre al fatto che insomma ci sarebbe dovuto essere un finanziamento che sarebbe dovuto arrivare alla città di Teramo per l'abbattimento delle barriere architettoniche, un importante finanziamento che io ho messo sul piatto a garanzia del mio ingresso, questo mi fu garantito, poi all'epoca si è perso tutto. Ricordiamo che attualmente l'assessore regionale che si occupa proprio... Dopo è entrato, dopo è entrato. E però è sempre rimasto della Lega, prima era Fioretti, adesso invece c'è Quaresimale. Sì, ma Pietro si sta spendendo, anzi è l'unico in provincia di Teramo che veramente si spende, questo era stato fatto un accordo con qualcuno sopra, diciamo il ruolo dell'attuale assessore Quaresimale, che poi col tempo ha disatteso tutti gli impegni che aveva preso quella mia persona e questo ha fatto sì che le mie valutazioni sul dato politico di quello che poteva essere una buona, diciamo, casa per ottenere risposte ai problemi dei cittadini sono stato veramente frettoloso. Però c'era il vuoto politicamente, quando ci sono i vuoti è importante anche poter in maniera opportunistica, sempre per la motivazione... Certo, sempre per arrivare a un obiettivo, insomma. L'obiettivo è quello di ottenere qualcosa, delle risposte, un dato di fatto che possa agevolare la vita dei cittadini, cioè l'impegno politico deve essere per il bene dei cittadini e della soluzione dei problemi del Paese e delle città. Teramo ha tantissimi problemi per quanto riguarda le infrastrutture, non da ultimo le barriere chiettoniche, fare un abbattimento come l'avevamo intuito noi. Io spero che nel futuro prossimo si possa fare concretamente e fattibile e con un costo relativamente basso. E a proposito proprio della... diciamo, poi di questi obiettivi, dopo essere rientrato, entrato nuovamente nel gruppo misto, hai, diciamo, anche fondato un nuovo gruppo civico, potremmo definirlo così, che è Teramo protagonista. Quali sono gli obiettivi di questo nuovo gruppo e soprattutto come l'hai immaginato, come l'hai creato? È un gruppo di amici, è nato così, siamo adesso circa una trentina, accomunati da un unico fattore comune denominatore, che è quello per la città di Teramo, il voler sostenere la civiltà, la cultura, l'attenzione per le eccellenze e trovare quelle vocazioni che purtroppo noi oggi soffriamo, la mancanza di, non di vocazioni, ma di valorizzazione delle nostre vocazioni stesse. Come suggerisce il nome, è una Teramo protagonista, soprattutto come, penso, capoluogo di provincia, dal momento in cui è un po' scomparso questo ruolo della città. Esattamente, nell'ultimo periodo siamo andati... non voglio utilizzare il termine declino, però è un momento storico dove ci sono tantissime opportunità esternamente e la buona pratica amministrativa la si vede con i risultati, non solo con la programmazione. Quindi crediamo che attraverso una visione, una visione che sia, diciamo, atipica rispetto al classico mondo odierno, si possano ottenere risultati importanti, ma questo necessita di coesione. E noi, insomma, siamo... Io sono l'esponente attuale, però dietro di me ci sono tantissimi amministratori, ex, o meglio, ex amministratori, tantissimi amici che si sono già candidati nelle precedenti legislature amministrative, e quindi hanno già un bagaglio di esperienza adeguato a poter fare, diciamo, team building, nel senso amalgama in questo tipo di obiettivi. Quindi siamo molto, molto ottimisti. È un gruppo eterogeneo dal punto di vista politico o comunque ha una sorta di estrazione filopartitica o comunque filocorrenziale, pensiamo. No, direi di no. Né filopartitica né filocorrenziale. Anzi, la caratteristica che ci accomuna, direi che ci sono gli antipodi, all'interno dello stesso gruppo ci sono delle vocazioni, almeno giovanili. È pluralistica, insomma, la caratteristica. Assolutamente sì, direi proprio di sì. Tant'è, c'è ad esempio il professor Mauro Baiocco, che è di estrazione di sinistra, come ci sono altri amici di estrazione di destra. Insomma, siamo del tutto civici, in carne ed ossa. Un altro progetto civico non legato a correnti di partito, come tra l'altro hai già anticipato in un servizio proprio qui con noi a Teleponte, e il Notag di Teramo, al quale partecipi, del quale sostanzialmente sei anche fondatore. Penso proprio insieme al maestro Mauro Baiocco, giusto? Sì, Mauro è arrivato dopo. Tra i fondatori aboriginem eravamo Gianfranco Caserta, sempre un professore, e poi Giorgio, c'è il professor Giorgio, che fa il professore di sostegno, e di Michele, e chi altro? Sì, noi tre. Eravamo i fondatori all'origine. Sempre tra amici. Sì, sempre tra amici. Adesso siamo diventati una trentina, però sempre... E tra l'altro ha tirato anche altri consiglieri. Sì. Prima d'opposizione, ora qualcuno è ritornato in maggioranza, però insomma... Sì, Flavio Bartolini. E quindi, insomma, si è creato questo gruppo che non si è schierata... Anche Maria Cristina Marroni è venuta diverse volte in alcune occasioni a sorsenerci. insomma, è pluralistico. Ma l'obiettivo qual è? L'obiettivo è rendere le vie di Teramo, diciamo, non degradate come sono, purtroppo, ma non per colpa ai nostri amministratori. Là manca la vigilanza, ma soprattutto manca l'educazione, la civiltà. Per far questo bisogna... Cosa fare per sostenere questi... Per evitare che ciò avvenga? Bisogna che le famiglie facciano le famiglie, la scuola faccia la scuola e che i ragazzi, quando crescano, siano liberi da condizionamenti. Questo ci vuole. Diciamo, una città che, secondo te, dovrebbe essere un po' più, diciamo, curata, per certi versi, o proprio dovrebbero essere i cittadini a cambiare un po' mentalità da questo punto di vista? I cittadini sicuramente devono cambiare paradigma, approccio, perché non possiamo essere ancorati a dei comportamenti veramente, diciamo, poco educativi. Le amministrazioni dovrebbero fare molto e ancora di più, chiaramente. Questo potrebbe essere un po' la cerniera. Chiaramente, l'assessore a ramo si spende molto per il decoro, c'è molto da fare, non è mai abbastanza. Lì, io direi che sono mancate sulla parte teramana, sono mancate le scelte sui dirigenti, sui funzionari, sulle rotazioni, e quindi si è incancrinita una serie di, si sono incancrinite una serie di problematiche dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, proprio perché sono mancati, sono mancate le scelte forti sugli apparati decisionali della macchina amministrativa. Se tu non fai quelle scelte, è chiaro che dopo 72 milioni e 8 di finanziamenti derivanti appunto dalla ricostruzione pubblica rimangono nei bilanci, nei cassetti non spesi, circa la metà erano già disponibili dal 2018, quindi dall'insediamento dell'amministrazione d'Alberto, però non si è mosso nulla. Quindi la tua idea sostanzialmente nell'ambito ricostruzione diciamo non è propriamente positiva nei confronti di questa amministrazione? No, si è mosso la parte giurisprudenziale legata alla normativa si è mosso molto, però se dopo se tu amministrazione non muovi le carte i progetti non si muovono e quindi non fai i lavori chiaramente. Certo. Queste le scelte doveva fare a monte. Lui come insediato aveva sei mesi di tempo, in sei mesi di tempo davi l'obiettivo ai dirigenti, di chi disattendeva gli obiettivi chiaramente tiravi una somma e poi facevi degli aggiustamenti ma qui dopo tre anni e mezzo stiamo ancora alla programmazione al faremo chiaramente non è una buona prerogativa per il futuro. Può essere un problema anche il fatto che attorno alla ricostruzione c'è un mondo c'è un mondo di ricostruzione anche urbanistica c'è un mondo di ricostruzione anche sociale collettiva che comunque non è facile da mettere in piedi. Bravissimo hai colto nel segno quello che intendevo e provavo in questo momento io la ricostruzione urbanistica e ripensare la città ripensare la città al netto di tutto quello che hai attorno come l'ospedale l'università le eccellenze le battaglie sono tante e chiaramente se siamo fermi sulle scelte fondamentali come non da ultimo il temporeggiamento che si sta adottando dal punto di vista di questa amministrazione sull'ospedale sul futuro della sanità a Teramo città con la scusa della centralità della provincia di Teramo all'interno della provincia la narrazione non regge il discorso vale anche per l'università quando sbloccheremo la situazione dell'ex manicomio probabilmente voglio sperare che lì allocheremo la nuova università di Teramo anche perché in realtà sono stati promessi questi finanziamenti c'erano grazie al masterplan del presidente D'Alfonso esattamente però poi praticamente adesso sono stati congelati e sostanzialmente ancora non si capisce se veramente verranno scongelati oppure no vedremo insomma quella poi sarà una situazione da osservare che pensi che ci sia da cambiare oltre a diciamo tutta questa visione sulla sulla ricostruzione e appunto sulla manutenzione anche se alla fine ho notato che tu come altri non appartenenti alla maggioranza del comune di Teramo avete apprezzato il lavoro comunque fatto dall'assessore di Buonaventura sì diciamo che è l'unico a mio avviso insieme all'assessore agli eventi che si dà da fare in maniera totalmente immerso nella quotidianità amministrativa diciamo così e c'è tantissimo da fare probabilmente avrei alzato l'asticella fossi in loro avessi potuto incidere in maniera più determinante ok nelle mezze cose o una cosa la fai bene o non la fai per niente come negli asfalti si è fatto quello che si è fatto grazie a dei recuperi all'interno dei bilanci che erano diciamo inespressi non erano state utilizzate queste quote e lì va dato merito che c'è stata la capacità di recuperare questo oltre milione e mezzo in più rispetto all'ordinario e si è dato si sono date diverse risposte ma tantissime zone di periferia le frazioni sono purtroppo non sono state raggiunte da questi interventi però il territorio è ampissimo certo oltre 50 km quadrati diciamo che se la sta lì lì con Parigi quindi 54 se non erro il problema oggettivo di Teramo è che assistiamo anche uno spopolamento l'1% del volume cittadino va via ogni anno ed equivale al 500 abitanti l'anno cambiano residenza questo deve essere un ulteriore campanello d'allarme per far comprendere che se non funzionano i servizi come l'ufficio anagrafe come il discorso della ricostruzione pubblica degli edifici scolastici dove siamo fermi la mia scuola la San Giuseppe è ancora ferma lì con il progetto ancora in una forma ibrida ci sono soldi in bilancio dal 2018 e sono stati e sono congelati la Savini è anche in quello stato lì dove miglioramento e adeguamento non vanno di pari passo però globalmente non c'è un approccio che dici benissimo dei 30 edifici scolastici sono partiti lavori 5 no non è così così come i cimiteri 15 cimiteri frazionali sono tutti deficitari hanno tutti problemi l'unico cimitero della città che è quello di Teramo come sappiamo vive di emergenze settimanali ed è stato anche un po' isolato con l'ultimo progetto della rotonda ipogea di Villa Pavone sì comunque insomma effettivamente ci sono ci sono varie cose che ha individuato ma Ivan Verzilli e quindi volendo Teramo protagonista che programmi hanno per il futuro i programmi sono quelli di fare squadra di lavorare su degli obiettivi specifici pochi ma buoni a livello di consistenza di risultanza vorremmo mettere sul tavolo un accordo programmatico che almeno duri 10 anni e quindi un sindaco che si possa impegnare in maniera devota alla città in maniera anche direi umile quindi siete anche aperti ad ascoltare i vari candidati che si proporranno per le elezioni prossime sì assolutamente sì una scelta deve essere collegiale massimo massima collegialità perfetto perfetto va bene Ivan io non posso che ringraziarti per essere stato qui con noi è stato un onore grazie Michele per avermi invitato saluto i telespettatori da casa vi ringrazio pure a voi telespettatori per averci seguito vi aspetto al prossimo appuntamento con dentro la notizia arrivederci a tutti grazie a tutti Grazie a tutti